Il primo successo è il fatto che stiamo lasciando la crisi fuori dalle porte di questa fiera. L'umore generale degli espositori è ottimo, i riscontri che abbiamo parlando con i singoli protagonisti di questa fiera che sono gli espositori sono eccellenti, sia per quanto riguarda la quantità dei visitatori che è in notevole crescita rispetto alla prima edizione, che già era stata molto positiva come affluenza, ma appunto quest'anno stiamo superando notevolmente ancora i numeri che avevamo fatto l'anno scorso, ma anche la qualità dei visitatori sembra che sia ulteriormente migliorata. La sinergia fra la manifestazione tedesca che si organizza a novembre a Norimberga, che appunto è la capostipite del brand SPS, con la nostra manifestazione si è ulteriormente materializzata in questa edizione in cui abbiamo coinvolto ancora più aziende internazionali, oltre a quelle nazionali, ma anche un numero di visitatori decisamente maggiore grazie appunto anche a questa sinergia. E soprattutto è ancora diciamo migliorata proprio con le esperienze che abbiamo acquisito la collaborazione fra noi come società organizzatrice e i vari protagonisti che sono appunto gli espositori, raggruppati all'interno di un panel, di un advisory panel che ci segue con molta attenzione e continua diciamo a tarare la manifestazione nella direzione giusta assieme a noi e anche per quanto riguarda la comunicazione verso i visitatori che siamo riusciti a tarare ulteriormente in maniera ancora più focalizzata rispetto alla prima edizione. Il 2013 sicuramente segnerà un altro passo evolutivo di questa manifestazione che appunto sull'onda diciamo che sembra di elenarsi nel successo di questa seconda edizione sicuramente farà un ulteriore passo in termini qualitativi ma anche quantitativi e quindi come solitamente facciamo a termini della manifestazione studieremo assieme al panel espositori tutte le migliorie e modifiche e innovazioni che ci consentiranno appunto di fare questo ulteriore passo evolutivo in vista del 2013.